Parlare del tema della dipendenza da gioco d'azzardo correlata a tutto quello che compete anche il tema della sicurezza, della criminalità organizzata, delle istituzioni è fondamentale. Il tema azzardo è un tema complessissimo, ognuno di noi se ne deve occupare per gli ambiti che gli competono, ma deve aver chiaro la complessità del problema. Oggi in un convegno come quello di oggi abbiamo provato a portare ognuno le proprie competenze per far capire quanto di questo tema ce ne siamo preoccupati troppo poco negli anni passati e cosa invece oggi è necessario fare per avere una società meno malata d'azzardo come quella che abbiamo attualmente.